Qualche tempo fa si è cominciato a parlare dell'app delle poste perché avrebbe una profilazione troppo eccessiva per evitare le truffe sui pagamenti. E il discorso da fuori sembrava non puoi utilizzare l'app se non accetti che prenda alcuni dati piuttosto importanti dal tuo telefono. Non è proprio così, in realtà puoi utilizzarle in modo limitato. Però è comunque un tema perché, cioè, che cosa se ne fanno? Perché serve questa cosa? A quanto pare la richiesta era motivata da identificare alcune transazioni non sospette o avvenute da dispositivi da cui non si accedeva di solito e quindi prevenire, insomma, frodi. Il che è assolutamente ragionevole e comprensibile, dovremmo tutti essere d'accordo, ma per come è venuta fuori non è che poste ci faccia una bella figura. Ma soprattutto potrebbe anche essere un ulteriore tassello al nostro luddismo sempre più generalizzato. Perché mi sembra di percepire un po' un odio verso questo telefono che ti guarda come il black mirror. Occhio al mondo! L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Sostanzialmente a una prima lettura sembrava obbligatorio fornire i dati per utilizzare le applicazioni di poste, quindi banco poste, poste pay. Come dicevo prima, senza queste autorizzazioni non si possono utilizzare le app in modo completo, ma solo con un limite di transazioni, di azioni prestabilito. Le app incriminate richiedono l'accesso ai data used access, permessi specifici che servono un po' a guardare il telefono e che ovviamente devono essere autorizzati dall'utente, proprio perché sono belli importanti. Il procedimento di autorizzazione è piuttosto complicato e invasivo. Si deve entrare nelle impostazioni di Android, abilitando le app al raccogliere informazioni dettagliate sull'uso del telefono, sulle altre applicazioni, la loro frequenza di utilizzo, l'operatore telefonico, la lingua. Poi, certo, chiariamo, non serviva per foto, video, documenti, per quello serve una specifica autorizzazione. Ma scusa, Bruno, ok, com'è che però questi dati servono per prevenire le frodi? Questi dati servirebbero per creare un profilo del dispositivo, una sorta di impronta digitale, per capire meglio se il dispositivo che si sta utilizzando è effettivamente utilizzato dalla persona che è proprietaria di quell'account. Post lo vende come un presidio di sicurezza per garantire le transazioni sicure, che quindi da un punto di vista meramente ideologico, da un punto di vista teorico, questa cosa ha drammaticamente senso, perché deve trovare un modo per garantire che dietro lo schermo ci siano le persone autorizzate a effettuare le azioni attivate tramite lo schermo. Nota per i tecnici, usano il Trust Defender di Treat Matrix per fare questa sorta di impronta. Ma a fronte di tutto questo, dei dati raccolti, gli utenti un po' più attenti alla privacy si sono detti Scusa, eh, bellissimo, ma dov'è che finiscono i dati? Ma posso non accettarlo per non essere profilato? È davvero così necessario per continuare a vivere? Nelle poste? Che cosa dicono le norme europee? Ho aspettato per fare questa puntata. Speravo in un riscontro da parte di poste, dopo tutti gli articoli che sono arrivati, per richiedere queste informazioni. Però al momento non ci sono. Quindi vi beccate una puntata incompleta. Noi non sappiamo precisamente che cosa raccolgono, come lo raccolgono, dove lo raccolgono, che uso ne fanno. E come noi possiamo chiedere la cancellazione dei dati. A questo punto si prefigurano alcune violazioni del GDPR, ma non solo. Anche del PSD2, che sarebbe quella normativa europea che gestisce tutta quella questione dei pagamenti elettronici digitali in Unione Europea. Perché mancano delle informazioni necessarie anche a quella norma di legge. Oltretutto, al netto della legge, c'è anche un punto di accessibilità. Ma non di accessibilità nel senso che è scritto piccolo, eccetera. Ma il punto è che le persone meno abbienti, chi non ha un cellulare, chi ha un cellulare vecchio perché non se lo può permettere, le persone che non sanno usare il telefono, ma vogliono usare il PC, non possono farlo. Perché devono comunque avere il telefono che è integrato nell'autenticazione a due fattori. Perché l'autenticazione a due fattori funziona nome utente, password e scannerizzazione del QR code abilitato dall'app che è stata precedentemente validata come dispositivo autorevole. Ora, ditemi voi se questa cosa non è proibitiva per magari un anziano o per magari qualcuno che non ha il telefono aggiornato per poter supportare l'applicazione di poste. Perché quelle persone hanno le operazioni giornaliere ridotte. Non possono fare tutto quello che potrebbero fare solo perché sono tecnologicamente non a livello di quello che poste si aspetta. Ha molto senso il verificare che dietro lo schermo ci sia la persona a cui è assegnato l'account. Soprattutto quando si parla di soldi, perché bisogna fare tutto nella maniera più sicura possibile, considerando che molte delle problematiche attuali relativa alla cyber security non sono più legate all'infrastruttura, ma all'ingenuità dell'utente. Ma farlo in modo così poco trasparente, quasi come se fosse una profilazione mascherata alla sicurezza, perché non voglio pensare che ci sia della malafede, per me non è il massimo. Anzi, per me è proprio un danno alla collettività devastante. Perché non permette alle persone comuni di capire che la tecnologia serve a tutti noi e che ormai la stiamo usando senza rendercene conto come un'estensione della nostra mano. E se la tecnologia è il nostro braccio robotico che può spostare oggetti, non rompere le uova, allora usarlo per fare il dito medio dei bambini è un danno reputazionale perché nessuno sarà interessato più e lo vedranno tutti solo per il drammatico utilizzo del dito medio. Grazie alla narrativa di tutti i film abbiamo già una paura atavica della tecnologia che può sostituirci. Abbiamo il terrore collettivamente che le IA possono mangiare lavori o anche molto banalmente che prima o poi avremmo bisogno di un upgrade perché non saremmo più produttivi o performanti. Serie come Black Mirror? Bellissima, eh? Matrix? Bellissimo, eh? Transformer? Non bellissimo. Oltre a essere popolari insistono su come la tecnologia possa prendere controllo della nostra società. E in questo contesto quindi è molto evidente come noi non siamo troppo ben disposti a un utilizzo massivo assolutamente non necessario della tecnologia. Ma basta guardare ultimamente come i media rappresentano le nuove tecnologie come qualcosa di sempre più distopico. Il cyberpunk sta tornando di moda. A tutto questo aggiungiamo che queste robe qui non sono fatte in un generico software di una generica azienda ma sono fatte nelle poste che ha a che fare non solo con i nostri soldi ma anche con tutta quella che è l'infrastruttura dello stato-paese tipo uno speed molto banalmente. Quindi da una parte poste non ci sta facendo una bellissima figura e va bene ma dall'altra va a gettare benzina sul fuoco su quello che è l'idea della tecnologia non come aiuto all'uomo ma come sostituto dell'uomo. E questa cosa mi fa molto arrabbiare perché dimostra di nuovo come noi tecnici non siamo capaci di tradurre in modo semplice qualcosa che per noi tecnici è ovvio e banale ma ovviamente per l'uomo comune non lo è e devi trovare un modo semplice e intuitivo per farlo diventare così. Trattiamo le persone come se fossero troppo stupide per capire. Questo a cascata si trasforma in un menefreghismo generalizzato per quello che è la comunicazione tecnica con l'utente quando ormai l'utente e la tecnologia vanno a braccetto quindi se non sanno come usarla o se non sanno che cos'è viene fuori un delirio. Cioè non proprio un delirio ma più un allontanamento da parte delle persone sul voler comprendere la tecnologia dar già tutto per scontato già tutto è così non possiamo fare niente per cambiare questa cosa perché non te l'hanno detto. Nel 2018 nasce il GDPR che introduce un sacco di tematiche anche da questo punto di vista ti dice l'informativa all'utente deve essere chiara deve poter recedere, deve essere conscio di poter recedere ma nessuno lo sa o quelli che si interessano ai dati ma la gente comune non sa niente e se noi tecnici quando finalmente abbiamo l'occasione di spiegare un po' meglio questa cosa sull'app delle poste che riguarda tutti perché le poste sono le poste sono un'entità statale no, non lo facciamo è molto scomodo meglio essere generici poco prolissi ma per nulla trasparenti poi non stupiamoci se l'analfabetismo digitale aumenta se le frodi aumentano se il pishing aumenta non stupiamoci se l'uomo comune non è più capace di distinguere il buon uso della tecnologia dal cattivo uso della tecnologia perché è colpa nostra siamo noi tecnici che non abbiamo più voglia di spiegare le cose e demandiamo a soluzioni tecniche che però non ti spiegano le cose perché un informatico quando tu devi dire non capisco questa cosa ti risponde cercatelo su Google non sta aiutando nessuno quello lì non lo cercherà su Google perché saranno termini troppo difficili chi lo cercherà avrà molte più probabilità di finire su un sito un po' complottista o che ti spiega le cose molto male e raffazzonate che cosa otteniamo? qual è il risultato? noi ci siamo tolti quei 5 minuti di spiegazione lui non ha capito niente e tra 5 anni quando gli ruberanno la password si dirà non capisco l'avevo salvata su un txt sul desktop chiamato password lo dico sempre puoi implementare tutti i sistemi di sicurezza che vuoi ma come ci insegna il primo Mission Impossible la vera falla nella sicurezza non è tanto un computer non connesso all'internet ma è la persona che c'è tra lo schermo e la sedia detto questo io ora mi fermo qui perché sono parecchio indignato e vi chiedo a voi da non esperti o esperti che siete che ne pensate? fatemelo sapere nei commenti qui sotto o su YouTube oppure sul canale Telegram che trovate in descrizione detto questo ora io mi taccio intanto però vi saluto vi auguro una buona giornata che ci vediamo a una prossima puntata informatica mondo del web questo è tanto altro su occhio al mondo l'occhio attento a quello che ci succede intorno l'occhio attento